La trasformazione digitale sarà un trend sempre più potente che abiliterà questo cambiamento importante proprio nella strutturale, nel modo di lavorare per i player finanziari. Quindi mi chiedo un po' cosa ne pensi sul tema del quantum computing, per esempio, e delle tecnologie che possono abilitare questo cambiamento? Beh, il quantum computing di sicuro è la prossima grande sfida perché potrebbe andare a compromettere tanti principi cardine delle soluzioni digitali di oggi, in quanto in un'ipotesi di quantum supremacy ci troveremo che i classici meccanismi utilizzati per le autenticazioni, le cifrature e quant'altro potrebbero essere messe in discussione. Quindi è un tema di sicuro investimento di chi si occupa di tecnologie e di sicuro investimento dei prossimi anni. Il momento in cui saremo pronti ad utilizzarli non è facile da prevedere, però credo che per chi si occupa di investire, di iniziare a mettere le basi sotto il profilo della conoscenza, sotto il profilo della crescita dell'esperienza e dei team, una tematica come quantum computing è una tematica fondamentale e lo diventerà sempre di più negli anni a venire. Basta pensare a tutti i meccanismi oggi distribuiti di consenso, uno per tutti, quello che conosciamo tutti meglio che sono i meccanismi della proof of work di bitcoin, potrebbe essere radicalmente messo in discussione con capacità elaborative completamente diverse da quelle che esistono oggi. Dall'altra parte questo diventa un super nuovo stimolo per far lavorare giovani e meno giovani brillanti che di sicuro inventeranno nuove soluzioni, nuove metriche, nuovi algoritmi e tutto questo ci farà crescere, ci farà crescere verso un sistema comunque finanziario sempre più efficiente, sempre più qualificato e sempre più capace di essere a passo con i tempi. Grazie. 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 Grazie.